Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video Ho comprato un gioco nuovo Little Nightmares dovrebbe essere un horror Dovrebbe But Aspettate che chiudo qua Rendiamo la scena proprio horror Ho deciso di portarlo sul canale Perché? Non lo so perché Secondo me è davvero tipo Perché praticamente se non ho capito male Le tengo qua dietro C'è questa ragazzina che è intrappolata in una casa delle bambole Deve affrontare le paure della sua infanzia Però forse in teoria dovrebbe essere come Life is Strange Ovvero che in base alle scelte che tu fai poi continua tutta la storia Quindi vediamo se ha finito di installarsi Perché lo sto installando ora E non ancora Quindi aspettiamo che finisce di installarsi E noi ci vediamo Dopo Ok Il gioco ha finito di installarsi Nel frattempo Mi sono fatta la doccia Mi sono fatta la piega Mi sono cambiata Adesso possiamo assolutamente partire E vedere Com'è questo gioco Ok Ripeto Non l'ho mai aperto Finora lo stavo installando Proprio 10 minuti fa Mettiamoci lo cuffie Speriamo che non vi vengono degli attacchi cardiaci E Siamo pronti per Intanto mettiamo un posto su Intanto che si apre Mettiamo un posto su Telegram Ho aperto il mio gruppo Telegram c'è In realtà c'era già Però Lo sto riutilizzando Aspettate che guardo Eccoci qua Sorry bitches Ecco qua il mio Gruppo Telegram Mi raccomando Join join Lo trovate Anche in descrizione Ansia Raga Ansia Mi sono spaventata tantissimo Premi A Sentite la musichetta Il sottofondo Che ansia mette Raga Io mi sono spaventata di brutta Ve lo dico Non fare danni Non fare Regola del corsore Finché l'occhio Non sarà appena visibile Dov'è l'occhio? Oddio Non l'hanno visto Così non è visibile Così È appena visibile No Insomma Che fanno Pettiamo da mangiare A Klaus Little Nightmares Accedetate Periodicamente Non spegnere Quando affare l'occhio Sulla schiena Ok Fermi tutti Devo dar da mangiare A Klaus Quanto buzza La sua pappa Madonna Vuoi che papà Dato è il vostro cane Io gli do la Royal Canina Non mangiavo l'entere Però forse Un sacco Allora Beh Nuova partita Direi Quasi quasi Mi metto No dai Ho comprato Una lampada nuova Per fare il video E il musical Lì Vedete anche voi la luce Siamo passando Nell'alto Che cazzo Io che ansia Sembra tipo un uomo Ti costa l'ultimo Che sembra troppo giorno Capito Non mi aiuta Io che ansia Ah ero su Ah dio Ma mi devo postare io Pensavo fosse ancora filmata Prende Che se vuoi fare Oddio Dove ti ho vissi Sì ma non si vede più niente Ma non mi lascia Prende Traga Che ansia Di più non posso passare No Cos'è con la cosa lì L'ho accesa Ho cliccato Dei tasti Casi Sì ma Ma spegnelo Sto cosa Ah ok Con il cerchio Accendo C'è con il cerchio Con la B Accendo E spengo L'accendino Con la Y Non fa niente Al momento Con la X Tipo si abbassa Un pochino Con la A Salta Ok Ma mica chips C'è qualcosa Con L T Si abbassa Di frutto Con questi Non fa niente Questo Ok Così Tiamo Poco a tutto Premi RT Per prendere Per prendere Cosa Secondo me Cosa devo Prendere Ah guardate BAMB Entriamo Come faccio Il contrario Mi dovrò Passare Ok Accendiamo Il lumino Così vediamo Ma sono Un piccolo Accendiamo Con il lumino Passati Passati Raga ma io De nuovo Vissi scappare Qualcuno Scusate Chi era e dove Sono andati C'erano dei cappellini Che sono scappati Tipo E se io volessi Entrare qua Un po' Non posso Cos'è Cos'è Quei cose Vanno a sapere Madonna Raga Pianza Poi Non posso Non posso Aprire Abbassiamoci Di nuovo Scusate 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 Lo so Che devo andare Di stavolo Questa cosa Non ci va Oh Devo agganciarmi Aia Raga C'è un uomo Morto Un peccato No raga Che ansia E qua Devo spostare Da Sì Piagli E Piagli E Non è che Sfa Questa Ok Vai Vai Gira Un pochino Ok Ora Spingiamo Dai Spingila Ok Dove lo sai Sì Però Ragazzi Sendo le ombre Che ansia Guardate Delle Impronte Di mani Oddio No Aspettate Voglio aprire Questa cosa Non c'è niente Cioè Rassù Ci sono Delle Scarpe E Sbaglio Ora Non c'è Niente Ci posso Vai 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 Pc Accendiamo Questa Eccolo E tu Chi sei L'ha Abbracciato Eh Amichetto Andiamo Sì Ma Devo andare Questa E' un po' Non si vede Un cacchio Di qua Non c'è Nessun Passato Amichetto Mi dici Devo andare Non posso Niente Se non Passato Vediamo Se può Mi Devo Troppare Questa 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 Secondo me devo fare qualcosa prima, prendiamolo, eccolo qua, dai, salta, ti aggrappi, no lui, tu ti devi aggrappare, dai, perché lui può suonare, ci salire, allora ci metto io, vai, salta anche tu, no, no, non accendi, non accendi, salta anche tu. Sali amigato, vedi lui può non riusci a salire, quindi lo devo prendere per forza io e metterlo qua su, salta anche tu, e appenditi anche tu, dai, amico, parla anche tu. Raga, scoprirò quello che devo fare e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Se qualcuno sa quello che devo fare, però me lo scrivo qua sotto perché io non sto capendo quello che devo fare. Noi intanto vi salutiamo, ciao! Saluta, guarda qua, guarda, che c'è? Vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Chiudi tu, Klaus? Ah no, non c'è l'aspetto. O col musino. O col musino. Chiudi tu, Klaus? Grazie a tutti.